Forse Kate ha fatto un passo falso, lunedì 22 maggio si è presentata a sorpresa al Chelsea Flower Show, evento amatissimo dai reali e dall'ex regina Elisabetta. Il problema era che la sua visita non era programmata e ha finito con l'oscurare al re e alla regina. In un mondo di buon senso diremmo, ma certo che Carlo e Camilla sapevano dell'arrivo di Kate, è una loro rappresentante. Però le cose non sembrano stare proprio così. In Spare, Harry raccontava di un quadro di invidia continue in cui Carlo e Camilla cercavano di togliere visibilità a William e Kate. Questo perché, includendo i membri minori della famiglia reale, erano in troppi a dividersi la stessa torta di impegni. Una volta addirittura venne detto a Kate di non indossare accessori che la facessero risaltare troppo, altrimenti i giornali avrebbero parlato solo di lei. E' quello che è successo ieri. Kate è addirittura arrivata in anticipo, prima di tutti gli altri prendendosi tutte le copertine dei giornali. Il suo vestito era pure dello stesso colore di quello che la regina aveva indossato l'anno scorso allo stesso evento. Sicuramente era un omaggio, ma poteva anche sembrare un modo di dire eccomi sono qui a sostituirla o forse addirittura sono io la nuova regina. Ma è possibile che Carlo e Camilla siano così meschini? Eh, forse ricorderete, come ha detto di recente anche la serie The Crown, che Carlo era molto geloso della fama di Diana. Quindi i precedenti ci sono, e a parte questo un pensiero personale. Forse avete notato anche voi che con l'approssimarsi dell'incoronazione a William e Kate, che prima stavano defilati, hanno cominciato ad apparire un po' dappertutto. La sensazione era un po' che avessero avuto il via libera. Adesso Carlo non deve più sottostare a sua madre, comanda lui. Quindi ha potuto essere magnanimo e dare più spazio al figlio e a sua nuora. Già prima della morte della regina, Harry ci diceva che era suo padre a gestire gli impegni che avevano i duchi di Cambridge e i duchi di Sussex. Se William a volte non era apparso troppo in pubblico, ci diceva Harry, era colpa di suo padre, che ne limitava la presenza. Un uomo che si faceva questi problemi, e mi riferisco al re, secondo voi può aver preso bene a essere ancora una volta stato scavalcato in visibilità dalla nuora? Questo dipenderebbe da come Carlo sta vivendo adesso il suo ruolo. Se adesso che è la massima autorità, è appagato, se adesso sente che è tutto in mano sua perché lui rappresenta la corona, allora forse continueremo a vedere Kate e William in giro. Ma tenete a mente le mie parole? Se Kate da questo momento verrà relegata per un periodo in secondo piano, o se non la vedremo in giro troppo sarà segno che quest'uomo se l'ha presa. In questo caso non vi chiedo solo di dirmi che cosa ne pensate nei commenti, ma monitoriamo insieme la situazione per vedere se le tesi sulla gelosia di Carlo sono fondate. Seguitemi per altre news reali.